La prima volta che ho giocato contro Federer nel 2019 a Wimbledon ho fatto forse 4 game in 3 set perché non sono riuscito proprio a entrare nel mood partitale sono entrato in campo e ho detto ma non è vero che sto giocando io sul centrale contro di lui cioè che 3 anni, ma neanche 2 anni fa stavo facendo il tifo per lui cioè è stata proprio un'esperienza bellissima che porterò sempre con me e che mi ha insegnato tantissimo e che è strano perché poi fanno dei giri strani cioè io 4 anni prima l'avevo scaldato a Roma mi ricordo, tremavo come una foglia ho detto se non sono all'altezza, se non riesco, se lo scaldo male e poi appunto praticamente l'ho rivisto e ci ho giocato lì e non è stato per niente facile lui si ricordava? lui poi ha una memoria, si ricorda pure il primo match 25 anni fa